Grazie a tutti. Noi cosa ci proponiamo? Fondamentalmente la sfida dell'uomo contro la natura, contro gli ostacoli, contro se stessa, è uno scenario da narrare come questo, che è uno scenario naturalistico straordinario, fantastico e per noi è solo il piacere di poter presentare una disciplina che possa rimarcare gli stessi successi che in altri territori ha rimarcato e quindi sta a noi ripresentare la sfida di essere dei bravi organizzatori nel futuro. Quanti partecipanti ci sono? In questo momento noi non abbiamo voluto dare un grande impulso, questi sono eventi che mediamente vanno dai 4 ai 5 mila partecipanti, noi l'abbiamo molto contenuta cercando di stare entro i 3 massimo 500 partecipanti, prima per fare un test, secondo per capirne la bontà organizzativa sul territorio, non stressare gli aspetti immediati che una comunità forse non è ancora preparata e noi dobbiamo essere bravi a metabolizzare e nel tempo crescere per arrivare agli numeri esattamente che prima indicavo. Invece entriamo nel tecnico, quindi è una gara campestre con una serie di ostacoli? Sì, diciamo che la disciplina dagli sportivi e dagli appassionati è definita OCR, gli americani OCR, cioè una corsa ostacoli campestre dove fondamentalmente viene fatta da 9 a 10 chilometri e mezzo, si può variare dai 19 ai 22 ostacoli di varia natura e complessità e con altezze degli ostacoli che possono andare dai 2 metri ai 6 metri, dove l'ostacolo non è soltanto l'ostacolo della natura con le sue pendenze ma è l'ostacolo effettivo, ma questo chiaramente non è che richiama un elemento ostativo al giovane, al chi vuole partecipare in modo amatoriale, perché se non supera l'ostacolo semplicemente si fa 4 flessioni e continua, perché l'obiettivo è stare insieme, l'obiettivo è fare sport, poi chi vuole fare da professionista, quelli sono i campioni che fanno appunto sport. Diciamo che si intende richiamare quello che noi una volta un po' più di generazioni precedenti esercitavamo, facevamo in mezzo alle strade e in mezzo alle nostre montagne, in chiave moderna con qualche ostacolo e qualche attrezzo moderno. Parliamo di imprenditoria, sport, benessere, quindi quale messaggio vuole dare anche agli altri imprenditori, parlando sempre anche di territorio e quindi di accoglienza? Allora, imprenditoria, benessere e territorio, questo sono tre asset importanti, quindi per persone che si vogliono impegnare non solo nella propria quotidianità, con i propri compagni, colleghi di lavoro, applicato a tante altre persone che possono avere il pretesto di darsi un'opportunità, c'è un po' di men sana in corpo resano, in modo un po' più organizzato. Il territorio invece è la nostra chiave di forza, che è legata a come proporre tante straordinarie opportunità, eccellenze di territorio, di tradizioni che spesso non sono conosciute, senza nemmeno richiamare quelli che sono i successi degli altri, nel nostro caso, nel mio caso, con il nostro gruppo di lavoro e far diventare successo quello che il nostro territorio già lo è, perché noi lo sappiamo, ma dobbiamo presentarlo agli altri. Quindi diamo l'appuntamento agli sportivi, agli atleti, per il 17, giusto? Per il 17 ottobre gli atleti, gli sportivi, che non sono soltanto coloro che praticano l'OSIAR, cioè la disciplina campestre e ostacoli, ma anche per il mondo del podismo, del CrossFit, li invitiamo tutti a venire, ad abbracciarci, stando insieme qui nel contesto di Telesa Termi, San Salvatore, Telesino, due cittadine fantastiche, dove saremo semplicemente felici di stare insieme con una bicchierata finale, va bene? Poi so che è anche itinerante questa gara, giusto? Ci saranno anche altre tappe? Dunque, allora, la Invictus Epic Race è un obiettivo un po' più strutturato, effettivamente c'è una visione e un pensiero imprenditoriale, ed ossia far diventare il brand di Invictus un brand nel mondo del Regno delle Due Sicilie. Voglio soltanto richiamare questo tipo di concetto per dire semplicemente che tutti i territori del Sud partiamo con Telesa Terme perché richiamo il concetto della sfida delle forche caudine, aldea dei territori e l'ubiquità di chi se la vuole attribuire. Castel del Monte nel Bat, quindi Barletta Andietrani come sede elettiva di Federico II e quindi parliamo della capitale amministrativa del Regno delle Due Sicilie. Parliamo di Modica giù in Sicilia per eccellenza e patrimonio onesco e chiusura con città di Caserta. Questo è l'inizio delle tappe che porteremo avanti, dove non è soltanto l'aspetto stretto dello sport, ma come fare cultura di sport in questo sport e con i territori. Quanto è importante questa gara? Quanto è difficile? Quali sono i dettagli tecnici? Allora i dettagli tecnici della gara sono basilari per l'OCR, quindi l'Obstacle Course Race. In effetti è un intervallarsi di percorso asfaltato a percorso naturalmente fatto con brecciolino, erbetta, salite e quant'altro. Nella cornice di Telese abbiamo anche il passaggio in acqua al Parco del Grassano, quindi è una cosa particolare. Per gli atleti di questa disciplina è facile. Spiego, una gara del genere di 10 km con 22 ostacoli, un campione la finisce in 36-40 minuti, per uno meno esperto alla durata anche di un'ora, un'ora e dieci. Ma la cosa importante non è tanto il tempo, anche per chi è meno esperto, ma è arrivare alla fine della gara ed essere soddisfatti poi del percorso che si è fatti e degli ostacoli che si sono superati durante il percorso di gara. Facciamo un esempio per i telespettatori che non conoscono questa gara. Che tipo di ostacoli si incontreranno? Ci sono diversi tipi di ostacoli, dal trasporto che può essere semplicemente un tronco oppure un secchio che va riempito con del sabbione, quindi portarlo per 400 metri e riportarlo al posto, oppure una monkey che non è altro che un ostacolo in sospensione, multi-rig sono sempre una monkey, soltanto che ci sono degli appositi attacchi dove tu vai a prendere una pallina o un cerchio, quindi sono diversi, ci sono muri verticali, muri orizzontali, ci sono dei passaggi sotto filo spinato o addirittura trasporto di copertoni o ribaltamenti di copertoni. È un po' particolare sia come tipo di gara che come ostacoli in sé per sé, perché fai l'ostacolo con qualsiasi cosa. Anche una salita ripida in quel caso è un ostacolo per chi non è esperto proprio della disciplina. Ecco, quindi è una disciplina che con un minimo di esercizio e un minimo di attività fatta anche in palestra puoi portare al termine, non avendo chissà che risultato, però ti dà quel senso di invictus, esatto, è proprio quello. Sindaco, quindi parliamo di sport e territorio. Che cosa offre San Salvatore Telesino per gli sportivi? Allora, indubbiamente questo è un altro elemento sportivo che mette in risalto le bellezze sia naturalistiche che culturali e artistiche del nostro territorio. San Salvatore è una perla sotto questo punto di vista perché appunto dal punto di vista naturalistico può offrire tantissimo, partendo dai puri di Montepugliano alle bellissime fonti del Grassano con il Torrente e all'antica Telesi e tante altre bellezze che ci sono. Noi come amministrazione comunale accogliamo sempre favorevolmente le richieste di queste associazioni che vogliono venire a gareggiare sul nostro territorio proprio perché riteniamo che sia una grande promozione, una grande conoscenza delle nostre zone e dei nostri prodotti in generale. Presidente, parliamo anche di accoglienza, di importanza per questi territori, una gara del genere. Sì, assolutamente, è un evento molto importante. Noi subito abbiamo offerto, ci siamo impegnati per dare il nostro supporto e affiancare questa iniziativa. Quando Giuseppe, il rappresentante dell'associazione Invictus Epic Race, ci ha proposto l'idea, l'abbiamo subito accolta con entusiasmo e compassione, sicuri anche del fatto che è un'iniziativa che può portare qui sul nostro territorio a far conoscere i nostri luoghi meravigliosi a partire appunto da Monte Pugliano con le sue fantastiche doline, l'oasi naturalistica del Parco del Grassano o anche il Parco delle Terme. Quindi sicuramente è un'iniziativa molto importante che può avere un impatto forte sul nostro territorio. Parliamo delle bellezze di San Salvatore Telesino e qui siamo in una cornice veramente magica, unica. una struttura insomma del Mille. Allora, siamo all'abbazia benedettina del Santo Salvatore, un luogo a cui noi siamo particolarmente legati perché è inevitabile che anche e soprattutto da qui passa la nostra storia, la storia del nostro paese, la nostra cultura. È qui che prende vita la nostra comunità e insomma ha origine un po' tutto. È un'abbazia benedettina, come appunto lei diceva, dell'anno 1000 e noi come Proloco tutte le domeniche offriamo, insomma siamo qui ad accogliere i turisti, offriamo supporto informativo, quindi vi aspettiamo per una visita in abbazia per farvi conoscere anche questa nostra bellezza storica. Anche Teleseterme è un territorio bellissimo che ha tanto da offrire ai turisti. Parliamo di bellezze di questo territorio. Buongiorno a tutti, assolutamente sì. Teleseterme, così come San Salvatore, diciamo fanno parte di quella splendida valle telesina che offrono a noi abitanti, ma anche a quelli che dall'esterno ci onorano della loro presenza, delle bellezze, delle attrattive invidiate su tutto il territorio nazionale. Noi come Proloco Telesia, così come gli amici della Proloco di San Salvatore, con il Presidente, cerchiamo di promuovere qualsiasi attività che possa mettere in risalto ancora di più le nostre bellezze, le nostre attrattive, affinché ci sia un flusso sempre maggiore di turisti e di amici che vengano a conoscere, a toccare con mano le nostre prelibatezze, le nostre bellezze del territorio. Quindi a ogni occasione anche sportiva? Assolutamente, infatti Invictus Epic Race per un'occasione tale che, così come le manifestazioni che già coinvolgono la città di Teresa di San Salvatore, come quelle che è accaduta a Pocanze, che c'è stata a Pocanze, il 3 ottobre dell'Alf Marathon, così l'Invictus Epic Race porterà degli sportivi che finalmente dopo un anno e mezzo, 18-20 mesi, in cui siamo stati purtroppo costretti a fare a meno di questi eventi sportivi con coinvolgimento di pubblico, di atleti, di spettatori, fortunatamente adesso il 17 ci sarà un grandissimo evento e coinvolgerà la nostra valle, i nostri paesini e noi siamo onorati di ospitare questi magnifici atleti. Sono con Rosario Baldino, qui accanto a me, dell'Istituto Albelichiero di Castelvenere. Ci vuole accennare qualcosa? Abbiamo un tavolo bellissimo, delle ragazze qui accanto a noi e quindi parliamo dell'Istituto e delle sue attività. Allora, innanzitutto ringraziamo gli organizzatori, la Prologo di San Salvatore del Signo che ci hanno dato questa opportunità di metterci in mostra un pochettino dopo tanto tempo che stiamo stati fermi e un po' con entusiasmo la nostra dirigente ci ha permesso di essere qui oggi. La nostra dirigente Elena Mazzarelli ci ha praticamente dato la possibilità di presentare questi prodotti locali e innanzitutto di presentare il nostro istituto e le nostre professionalità. Nel nostro istituto ci sono tre indirizzi, l'indirizzo accoglienza turistica, di cui qui abbiamo delle degne rappresentante, sia del percorso diurno che del percorso serale, perché da tre anni ad oggi sono partiti questi nuovi corsi per adulti che tutti e tre l'indirizzo accoglienza, enogastronomia e sale e vendita, di cui ovviamente ne rappresento. Dicevamo che l'importanza della presentazione, dell'ospitalità, della comunicazione, di comunicare il territorio e questa è la nostra chiave per poter formare figure professionali adatte a una nuova ristorazione moderna. Comunicare le nostre bellezze, noi insistiamo in un territorio bellissimo, abbiamo sia ricco di storia, ecco non a caso oggi ci troviamo in una cornice meravigliosa, ma anche il nostro istituto insiste in un paese bellissimo che è Castelvenere e la nostra è una bomboniera perché poi sotto abbiamo anche un'enoteca, quindi il nostro... la conosce, quindi diciamo che il nostro istituto ha questa vocazione verso la vita perché Castelvenere è uno dei paesi più invitati d'Italia, per cui oggi siamo qui proprio a rappresentare anche prodotti locali, quali la famosissima acqua di Terese, non so, la Cantina Solopaca, ma ci sono queste produzioni, non so, le Strufoli di San Salvatore, il Tarallificio di San Salvatore Telesino che ci ha oggi permesso di accompagnare questi vini con i Taralli, i Cantucci, le Strufoli che qui sono proprio l'eccellenza. Ma io non vorrei rubare la scena alle ragazze che oggi ci rappresentano, ecco diciamo, una grandissima quota rosa perché sono tutte ragazze che ovviamente partendo un pochettino dalle signore laggiù che sono di accoglienza e qui abbiamo un po' alternate... Sì, sì, prego, prego, venga con me, così le presentiamo. Ecco lì. Allora, lei è... Salve a tutti, sono Piccirillo, grazie. E rappresento il diurno del nostro istituto. Io rappresento il serale e mi chiamo Daiello Giovanna. Chiedo scusa se vi faccio... Sono Rosetta Parente e rappresento Sala Vendita. Io sono Di Paola Patrizia e rappresento il serale Eno Gastronomia. Sono Gaia Baldino e rappresento il serale Corso Eno Gastronomia. Lei? Sono Landolfi Federica e rappresento il corso serale Sala Vendita. Sono Valentina Fiorillo e rappresento il corso diurno Sala Vendita. Salve a tutti, sono Stefania Sagliocco e rappresento Accoglienza Turistica. Stefania, parliamo dell'istituto. Sì, allora, il nostro istituto ci offre varie attività, tra cui pasticceria, cucina, accoglienza turistica, sala e bar. Io ho scelto Accoglienza Turistica perché penso che il nostro territorio sia ricco di attività, cose molto storiche e belle da vedere. Nel mio futuro vorrò fare parte di questa accoglienza turistica vorrò fare perché penso sia molto bello e pieno di cose da imparare e da vedere. Allora, io faccio parte del serale perché all'epoca mia questa scuola ancora non esisteva e quindi ho scelto questo indirizzo. Quale indirizzo? Accoglienza. Perché mi piace il contatto diretto con le persone, avere il contatto diretto con le persone. E poi, come dicevamo, questo territorio veramente... Ci offre tante cose da parecchie persone che non conoscono e quindi è un modo per conoscere, per farle conoscere. Sono con Patrizia, quindi cuoca, parliamo della sua esperienza, della bellezza del suo lavoro. Allora, io ho lavorato in cucina e mi sono iscritta a questo corso perché volevo migliorare. Allora, io ho lavorato in cucina e mi sono iscritta. Allora, io ho lavorato in cucina e mi sono iscritta. Spine! Spine! Ah, ah! 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 Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.